La Fisica che cura avrò il piacere e l'onore di essere il vostro Virgilio. Oggi parliamo di un argomento a cui la rivista Time nel 2004 dedicò una copertina dal titolo Il Killer Segreto. Parliamo di infiammazione. Che cos'è l'infiammazione? L'infiammazione è un meccanismo biologico attraverso cui un corpo ripara un danno ricevuto, ad esempio da un trauma fisico oppure da un'infezione. L'infiammazione viene quindi utilizzato come meccanismo di risposta contro danno nocivo dal nostro corpo nel tentativo di ripristinare l'omeostasi. Stiamo parlando di quella che viene definita infiammazione acuta, che viene ad esempio quando stiamo preparando un piatto in cucina e ci tagliamo, oppure durante un evento infettivo. Capita a volte che questa infiammazione però non riesca a risolversi, diventando quindi cronica. Ed è proprio l'infiammazione cronica ad essere il killer segreto. Infatti noi ritroviamo l'infiammazione cronica come base patogenetica di tantissime malattie. Pensate al diabete, alle malattie neurodegenerative, alle malattie articolari come l'artrosi. Ma non solo, anche nelle malattie metaboliche e in quelle autoimmuni abbiamo sempre di base un'infiammazione cronica che porta alla distruzione dei tessuti, caratterizzando quindi quel decorso cronico e spesso degenerativo di queste malattie. Ma che cosa avviene durante un processo infiammatorio? Durante un evento infiammatorio diverse cellule, tra cui le cellule del sistema immunitario e l'endotelio vascolare, dialogano tra di loro utilizzando delle molecole che si chiamano citochine. Potremmo in qualche modo immaginare le citochine come delle note musicali. Si dividono in due gruppi, le citochine pro-infiammatorie, cioè quelle che cercano di stimolare il processo inflogistico, oppure quelle anti-infiammatorie, cioè quelle che cercano di spegnere il processo infiammatorio. Se quindi pensiamo all'infiammazione come una musica, ci rendiamo subito conto che ci deve essere il giusto equilibrio tra alte note musicali e basse note musicali, quindi tra citochine anti-infiammatorie e citochine pro-infiammatorie. Dunque, in uno stato in cui l'infiammazione eccede e causa un danno tessutale, noi avremo un eccesso di produzione di citochine pro-infiammatorie contro una produzione scarsa o carente di citochine anti-infiammatorie. È quello che avviene quando un'infiammazione, se eccessiva, porta alla distruzione dei tessuti e quindi a malattia. Ma come posso fare per proteggermi dai danni dell'infiammazione? Possiamo scegliere tra due strade, sopprimere l'infiammazione oppure modularla. Sentite questa melodia in sottofondo, provate a immaginare che sia un processo biologico. Ed ecco, in questo momento lo sentite questo fruscio, questo disturbo? Ecco, quella è l'infiammazione che è arrivata ad alterare quel processo biologico. E ora scegliamo una delle due strade. Scegliamo quella di sopprimere l'infiammazione. Non sento più nessun rumore, ma anche la melodia di sottofondo è stata spenta. Questo accade quando, ad esempio, in una situazione di infiammazione acuta, noi andiamo a spegnere completamente quel sistema riparatorio che è l'infiammazione. Proviamo invece a scegliere l'altra strada, quella della modulazione dell'infiammazione, in modo tale che ci riporti a sentire la melodia del processo biologico che ha ripreso a funzionare. Ed è proprio questa la funzione dei campi elettromagnetici a bassa frequenza e intensità utilizzati per modulare il processo infiammatorio. I campi elettromagnetici a bassissima frequenza e intensità hanno infatti la proprietà di modulare la produzione di citochine pro-infiammatorie e anti-infiammatorie. Entrerò un pochettino più sul tecnico, ma non vi spaventate. Diversi studi hanno evidenziato come l'utilizzo di questi campi elettromagnetici ultra-deboli abbia la proprietà di ridurre l'espressione di citochine pro-infiammatorie come il TNF-alfa, l'interlochina 1-beta, l'interlochina 8, molto importante negli stati infiammatori da infezioni, o l'interferon gamma. E parallelamente invece stimolare l'espressione di citochine anti-infiammatorie come l'interlochina 10 o i recettori dell'adenosina. L'effetto finale è quindi quello di modulazione delle citochine pro-infiammatorie e anti-infiammatorie a favore di quest'ultime, così da rendere l'infiammazione quel processo biologico positivo e propositivo di cui abbiamo parlato all'inizio. Questo effetto sulle citochine ha un risvolto molto importante anche sulle patologie croniche degenerative. Infatti anche nell'infiammazione cronica, come quella presente ad esempio nelle malattie auto-immuni, abbiamo un eccesso di citochine pro-infiammatorie che portano al danno tessutale. Ed è proprio nel trattamento delle malattie auto-immuni che i campi elettromagnetici a bassissima intensità trovano un pregevole utilizzo in protocolli di medicina integrata, proprio come viene all'ospedale Gallino di Genova. In questi protocolli i campi elettromagnetici a bassissima frequenza e intensità hanno la proprietà di lavorare insieme alla terapia farmacologica e ad altri approcci integrati per migliorare quella che è la risposta alla terapia dei pazienti e migliorare quindi la loro qualità di vita. Un'altra applicazione importantissima dei campi elettromagnetici ultra-deboli, anzi potremmo definire la loro applicazione principe, è quella nel trattamento delle patologie osteoarticolari di natura infiammatoria. Pensiamo ad esempio all'artrosi, quindi a una patologia di natura infiammatoria, di un'infiammazione cronica che va a distruggere il tessuto articolare, dove l'applicazione dei campi elettromagnetici trova anche in letteratura un ottimo riscontro di successo. Ed è ad esempio in questo modo che l'applicazione dei campi elettromagnetici ultra-deboli trova un ottimo riscontro nella pratica quotidiana nella casa di riposo di cui io sono responsabile sanitario. Un altro modo di utilizzarlo molto frequente nella mia casa di riposo è ad esempio nel postoperatorio, dove lì non abbiamo un'infiammazione cronica ma un'infiammazione acuta. Ma di questi due aspetti ne parleremo nella prossima puntata. Volgiamo al termine di questa prima tappa del nostro viaggio nella medicina elettromagnetica. Vi ricordo che le informazioni circa quello che io ho detto nel video, i riferimenti bibliografici ad esempio, li trovate qui in descrizione. Vi informo anche della possibilità di iscrivermi all'indirizzo email alla quale potete iscrivermi sia per chiedermi curiosità circa l'argomento che abbiamo trattato oggi oppure se volete indicarmi argomenti che volete io tratti nei video futuri. E chissà, magari le domande più curiose e interessanti potrebbero diventare oggetto di una puntata dedicata. Vorrei salutarvi con le parole di Plutarco. La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere perché si infuochi il gusto della ricerca e della verità. Alla prossima!